Case popolari non ci sono per tutti, richiedenti sono tanti, ci siamo dati una priorità. Abbiamo scelto di dare la casa in primis a chi negli anni ha sempre pagato le tasse per questo comune e quindi ha fatto sì che il comune potesse erogare servizi. Abbiamo deciso di dare un po' quello che l'utente ha dato in passato. Ora si trova in condizioni economiche disagiate ed è giusto che il comune pensi prima a lui. Case popolari più facili e gli aretini scatta infatti un punteggio secondo gli anni di residenza che va così ad unirsi al vincolo già esistente della residenza anagrafica o attività lavorativa in Toscana da almeno cinque anni, così il bando per la graduatoria di alloggi ed edilizia residenziale pubblica pubblicato lo scorso 2 dicembre. Diciamo che la novità più importante è quella che viene rinnovato tutto, quindi anche chi è già titolare di un alloggio deve comunque ripresentare domanda. Ci sono dei limiti molto restrittivi per quello che riguarda proprietà in Italia o all'estero in modo tale da evitare che ci siano i furbetti che si possono aggiudicare un alloggio che è dedicato a chi ha bisogno e non a chi ha già delle proprietà e comunque un'apertura a redditi sempre più bassi per quello che riguarda l'aiuto che il comune riesce a dare a una fascia di cittadini che necessitano di un aiuto importante a livello abitativo. La graduatoria verrà così ridefinita integralmente anche secondo alcuni nuovi criteri. Sono stati introdotti dei punteggi aggiuntivi che premiano chi è residente sul territorio da più anni e il comune ha scelto di applicare la certificazione dello stato immobiliare all'estero nel paese d'origine per esattezza non solo agli extra UE ma anche agli UE per una questione di equità e di rispetto nei confronti degli italiani che sono soggetti alla verifica del catastro. Rispetto all'ultimo bando con l'introduzione della certificazione agli extra UE siamo passati da una graduatoria composta dal 45% di aretini a una graduatoria composta da aretini per il 75-76%. Sono in tutto 1.150 gli alloggi di edilizia popolare presenti nel territorio comunale aretino gestiti da Arezzo Casa, un numero che a breve si incrementerà. Abbiamo per la città di Arezzo due cantieri importanti, uno al Gattolino e uno in Pescaiola vicino al mercato ortofrutticolo, stiamo costruendo alloggi che saranno disponibili entro la fine di quest'anno con scadenze diverse, un cantiere molto più avanti dell'altro però insomma stiamo cercando di implementare un po' il patrimonio immobiliare dell'azienda che negli anni è stato riscattato in gran parte da chi ne aveva diritto quindi purtroppo le case sono sempre meno a fronte di un'esigenza sempre maggiore quindi era ed è indispensabile continuare a costruire. Le domande di partecipazione al bando di concorso dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Arezzo e consegnati entro e non oltre il termine del 31 gennaio 2020.